Conclusa la stagione con un buon settimo posto alle spalle del Messina, Gela si vuole programmare per tempo la prossima annata nel campionato di Serie D. Nei giorni scorsi era stata annunciata una conferenza stampa da parte della dirigenza Biancoblu per chiarire il futuro del Gela, poi annullata per sopraggiunti impegni improrogabili di natura lavorativa, si legge sulla pagina Facebook della società gelese. Prossimamente dunque se ne saprà di più sul Gela edizione 2018-2019. I tifosi auspicano che la dirigenza, forze produttive e città facciano fronte comune per proiettare la squadra verso traguardi prestigiosi, consoni al blasone e alla tradizione del Gela e di Gela. Si spera insomma che ci siano le condizioni per pensare e progettare in grande, per tornare in Serie C. L'ultima apparizione Lega Pro risale al campionato 2010-2011.